Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito, link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, Corgasmi che mi è stato chiesto di portarvi sul mio canale una squadra serie A argento. Ve l'ho portata a questa 30.000 crediti ed è fortissima. Dunque, andiamo subito ad analizzare il modulo 3412. Non volevo mettere il 352 perché i 2cc sono cc puri, non cdc, quindi avrei dovuto cambiare il ruolo e quindi costava un po' di più. Però devo dire che con questo modulo mi sono trovato davvero davvero bene. La prima volta, forse in due anni, che lo uso, questo modulo è una delle prime volte che uso la difesa 3 appunto in questi ultimi due anni, tra FIFA 15 e FIFA 16, ma mi sono trovato molto bene. Quindi andiamo subito a parlare del portiere che è Carrizo, quello che ho usato nell'ultima squadra per capirci. Quindi mi sono trovato anche qui abbastanza bene, avrò preso tipo 3 gol in 4 partite più o meno che ho fatto, ma comunque ho sempre vinto con più gol di scarto. Carrizo ha sempre fatto delle buone prestazioni, quindi secondo me è un buon portiere, ecco. Poi, andiamo con la difesa a 3. Allora, nella parte esterna di destra ho utilizzato Masiello probabilmente. Adesso mi ricordo bene un po' la disposizione dei 3 DC, però devo dire che Masiello è molto forte, sempre in posizione, alto, discretamente veloce, anche se non serve eccessivamente la velocità magari tra i difensori centrali. Costa poco, ha dei valori di difesa fisico molto buoni, appunto poi le prende anche di testa, è importante, è destro, quindi gioca a destra. Devo dire che mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto il suo compagno di reparto, quello in mezzo, il centrale proprio puro puro, che è, se non sbaglio, Costa, o l'altro, adesso non mi ricordo. No, Costa l'ho utilizzato a sinistra perché è Mancino e, come si chiama, Canini in mezzo. Allora, Canini è quello più forte di tutti perché è quello più forte in difesa rispetto agli altri ed è veramente invalicabile come giocatore, anche lui è molto alto, worker, difensore puro puro puro, quindi sta sempre dietro, costa 450 crediti, quindi uno scherzo, ha delle statistiche veramente altissime per me, per un difensore centrale. Invece, ho sbagliato, Costa, anche lui molto forte in difesa fisico, meno alto, sempre la stessa velocità, purtroppo non ci sono giocatori velocissimi, anzi in realtà ce n'è uno con tipo 75-77 di velocità, adesso non mi ricordo, però io ho voluto utilizzare questi tre perché sono tre italiani, tre giocatori secondo me perfetti, ecco per giocare insieme fanno molta chimica, molta intesa. Costa poco, Costa, abbastanza buono direi, decisamente buono, poi è Mancino quindi lo mettete a sinistra. Poi andiamo subito con gli esterni, perché sono esterni sia che attaccano che difendono, visto in mancanza di terzini, Zappa Costa è il primo, l'esterno è di destra, Zappa Costa mi è piaciuto tantissimo perché non sbaglia praticamente niente, mi ha fatto un assist in quattro partite, un bel cross per un attaccante, abbastanza veloce, con anche un buon tiro, un buon passaggio, un discreto dribbling, comunque forte in difesa quando torna e anche un buon fisico. È un ottimo terzino tornante che attacca e poi torna a difendere, infatti questo spiega il worket alto alto. Mentre l'esterno di sinistra ho utilizzato Nagatomo perché ho voluto anche qui usare un giocatore abbastanza buono quando rientrava in difesa, sempre in mancanza dei terzini, quindi in pratica si trasformava in fase difensiva in un 5-2-1-2 per capirci. Mi è piaciuto Nagatomo anche se non ha un passaggio eccellentissimo, infatti delle volte lo sbaglia, però di buono ha che ha 4-6 le piede debole, che ha un'ottima velocità, non mi ha fatto niente, nessun gol, nessun assist, comunque buon dribbling e buono in difesa. Mentre i due centrocampisti centrali sono a destra, ho utilizzato Uchan, Salih Uchan della Roma, davvero un giocatore da provare. Mi è stato chiesto appunto di provare questo giocatore, io l'ho fatto perché è veramente forte. È forte perché non ha delle statistiche eccezionali, però ha una discreta velocità. Un tiro abbastanza buono, anche se non mi ha fatto gol, un buon passaggio, un buon dribbling con 4 stelle di abilità, ma soprattutto ha 5 stelle di piede debole, che ti facilitano il compito o i compiti di molto, perché ti aiutano tantissimo. Costa 2200 credit, quindi un po' più rispetto allo standard dei giocatori di questa squadra, però vi garantisce tanta qualità in mezzo al campo, anche imprevedibilità, cosa secondo me molto importante. Quindi Uchan vi consiglio di provarlo, secondo me potrebbe essere buono anche da trequartista. Il suo compagno di reparto è un mostro, cioè Obi, perché Obi quest'anno è argento, perché non so l'anno scorso cos'era, però è veramente forte. Ha una discreta difesa e un discreto fisico. Ha alto alto, quindi attacca sempre e poi anche torna a difendere e la cosa è facilitata dalla sua velocità. 83, molto molto buona per un centrocampista centrale. Un discreto tiro, vabbè, non è il suo piatto forte, diciamo, anche se mi ha fatto un gol. E un assist per il suo buon passaggio. È un po' un giocatore che mi ricorda tanto Ramirez del Chelsea, diciamo, il tipo di giocatore è quello. Provatelo, perché è veramente forte. Poi, il trequartista, un altro giocatore della Madonna, cioè Paredes dell'Empoli. Provate anche Paredes, perché ne vale la pena. Quattro gol in quattro partite, più un assist, mi aspettavo qualche assist in più, però se lo facevano praticamente gli attaccanti, gli assist, i due ATT. Paredes è veramente forte, veloce, buon dribbling, anzi ottimo dribbling. Salta l'avversario con una facilità estrema, ha anche un buon tiro da cui derivano quattro gol. Anche se, magari, se avesse qualcosa in più di tiro sarebbe decisamente meglio, quindi sarebbe ancora più forte. Un ottimo passaggio, vabbè, fisico, chi se ne frega, però è alto 1, 80, quindi buono. Normale è normale di Worket, giusto, quindi non strafa in attacco, ma non torna neanche di brutto in difesa. Mentre, ragazzi, parliamo dei due attaccanti. Il primo l'avete già visto nello scorso Squad Builder, cioè Muriel, perché Muriel è devastante. Tre gol e tre assist in quattro partite sono statistiche devastanti per un giocatore devastante, che vale tutti i crediti dal primo all'ultimo che spendete per acquistarlo. Velocissimo, controllo palla eccellente, tiro sopraffino, non sbaglia praticamente mai un tiro, è sempre in posizione. Praticamente questo è il giocatore perfetto, ma vabbè, ne ho già parlato nello scorso video, quindi saltiamo. Parliamo dell'altro attaccante, il mostro completo, Jerry Mbakobu. Mamma mia, ragazzi, provate, questo giocatore è divino. Una velocità assurda, prende palla e non la perde mai, anche perché ha un fisico bestiale, ed è proprio grosso grosso, cioè si vede in gioco che è difficilissimo, una montagna. Non ha un dribbling molto alto, però chi se ne frega. Ha un tiro pazzesco, cioè non sbaglia mai, e ha una finalizzazione tipo 78, che è altissima per essere un giocatore argento, poi per il resto chi se ne frega. Mi ha fatto 5 gol e 2 assist in 4 partite, cosa veramente altissima, considerando che se non mi avessero quittato, magari gli avversari avrebbero fatto anche molto di più, la cosa veramente spaventa. Questo giocatore è l'Emeniche argento, anche se quest'anno Emeniche non c'è, però se ci fosse questo sarebbe il Silver Emeniche. Ragazzi, provatelo, provate tutta la squadra, perché vi garantisco che è fortissima, vincete praticamente sempre, anche contro le squadre oro, perché è veramente fortissima, costa 30.000 crediti e ne vale veramente la pena. Come sempre, raga, vi invito a lasciare un bel mi piace, spero che appunto questa squadra vi sia piaciuta. Commentate scrivendomi cosa ne pensate di questa squadra, se la proverete, se l'avete provata, appunto cosa ne pensate, e consigliatemi altre squadre da portare in futuro. Io pensavo a una squadra con Cialanogluif, perché mi ispira molto, fatemi appunto sapere. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione. Adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video. Bella raga! Ciao! Grazie a tutti